Pesaro è anche capitale della cultura di impresa. Va in questo senso l'impegno della Compagnia delle Opere che oggi nella sede della Camera di Commercio ha presentato l'evento che domani 20 giugno avrà il suo clou in due momenti di confronto. Prima il teatro di Cartocetto, poi in un convegno all'hotel Charlie di Pesaro volto ad indagare la profondità del legame fra cultura, territorio ed impresa. Un progetto che è diventato anche un video realizzato grazie alla partecipazione di numerosi imprenditori del territorio che hanno raccontato le loro storie e le loro visioni di futuro. Video che sarà mostrato domani all'hotel Charlie alla presenza di 200 imprenditori e autorità locali in un confronto che partirà dalle relazioni del presidente camerale Gino Savatini, del presidente della FIAM Vittorio Livi, del presidente della cooperativa dell'imprevisto Silvio Cattarina e del presidente nazionale di Compagnia delle Opere Andrea della Bianca. La volontà nasce dal continuare un lavoro in cui l'impresa, l'imprenditore, l'impresa sociale, l'impresa educativa, ha un compito e un ruolo che non è soltanto quello del contenuto economico a fine anno, molto importante per la stabilità delle imprese, ma ha un compito sociale e culturale che quotidianamente ha a che fare con l'imprenditore che deve fare le sue scelte, ha cura al territorio, ha cura le persone che lavorano con lui, le persone che lavorano in questi contenuti economici che accettano la sfida di contribuire a far crescere una natura imprenditoriale che ha un impatto sociale e territoriale che aiuta a crescere e a far crescere un territorio. È nata l'idea di un progetto che fosse collegato alla cultura del territorio e approfondisse quello che è il legame, il dialogo tra l'impresa e la cultura del territorio appunto, perché molte imprese hanno come proprio humus la cultura presente nel territorio, non solo come competenze ma anche come valori che si respirano in un territorio, relazioni che si respirano in un territorio e quindi ne fanno la stessa caratteristica imprenditoriale del proprio brand ma anche spesso dei propri prodotti. Per questa ragione questo progetto ha teso ad approfondire tutti questi legami e le ragioni profonde che caratterizzano l'impresa e costituiscono il volano dell'impresa locale. La cultura d'impresa è uno dei principali motori per lo sviluppo del territorio e noi come banca di credito cooperativo presente con quattro filiali su Pesero ma 11 in tutta la provincia non potevamo non rispondere presenti. Noi da buoni cooperatori quello che vogliamo fare è fare il bene comune. Il terzo settore poi è una delle nostre passioni oltre che specialità e quindi anche per il prossimo settembre lanciremo una campagna molto forte sulle società del terzo settore proprio perché riteniamo che siano un motore di coesione e di sviluppo del territorio.